L'ex sindaco di Battipaglia, Fernando Zara, recentemente nominato consulente di Alba, in pratica sarebbe già fuori dalla porta della società. E' scaduto ieri l'ultimo giorno previsto dal contratto di consulenza che legava il politico ad Alba. Sono trascorsi 90 giorni a cui non è seguito il rinnovo del contratto. Passato per il nodo del bilancio, la sindaca cecilia-francese potrebbe non confermare Zara. Intanto aumentano le voci sempre più incessanti di un rimpasso dell'esecutivo battipagliese. Insomma, tutto sembra ancora una volta in attesa di capire meglio le poltroni di Alba e delle preoccupazioni legate alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e il blocco dello stirre. E' chiaro però che più di tutte è Alba a preoccupare la maggioranza cittadina. In attesa del sostituto dell'amministratore unico Luigi Giampaolino, la società deve fare i conti con le difficoltà dell'ex stirre, nonostante l'accordo con il programma concordato per lo sversamento dei rifiuti in attesa della risoluzione del guasto di Acerra. Grazie a tutti.